Ciao! Allora, cominciamo subito. Il miglior antirughe è sicuramente la protezione solare. Ricordo bene questo studio che dice che l'80% delle rughe prima dei 40 anni è dovuto e causato dai raggi del sole, dai danni del sole. Io so che noi siamo italiani, italiane, io sono siciliana, immaginate mio fratello mi chiama mozzarella, dato il mio pallore. A noi piace moltissimo avere questo colorito sano. Colorito sano purtroppo non esiste. L'oscurirsi della pelle è una reazione, una difesa da parte della nostra pelle. In Italia siamo ancora un po' resti a voler capire i danni del sole, causati dal sole. In America c'è una diversa corrente di pensiero. Vi faccio un esempio. Io ho lavorato, alcuni di voi lo sanno, ho lavorato per l'Estée Lauder. In America, sul mercato americano, l'Estée Lauder non vende prodotti che hanno una protezione inferiore al 15. Invece in Italia ho visto che ci sono prodotti dell'Estée Lauder con una protezione inferiore al 15. Quindi questa cosa mi fa pensare, assolutamente. Io dico sempre, volete andare a mare? Assolutamente. Non dico non andate a mare, però almeno il viso, il petto e le mani, proteggetele con una protezione almeno, almeno, se sentite una voce fuori campo, è mio figlio. Una protezione almeno di, almeno un 30 come protezione d'estate e un 15 d'inverno, assolutamente. Per il resto del corpo andate almeno con un 15 d'estate, meno di 15 è inaccettabile. Ci sono due prodotti, due ingredienti che io cerco sempre nei prodotti che compro. Uno è il Mexoril, l'altro, me lo suggerisce mio figlio, è l'Elioplex. Sono due prodotti che praticamente mantengono una resistenza al sole durante la giornata, anche se lo applicate la mattina. Quindi sono due ingredienti che io sicuramente cerco. Il primo lo trovate nei prodotti dell'Oreal, nei prodotti dell'Oreal, mentre il secondo lo trovate nei prodotti della Neutrogena. Questa è la 55, in questo momento l'ho messa sotto il trucco, va benissimo sotto il trucco perché non ha oli residui, quindi è fantastico. Ultimamente ho visto anche, sempre di questa linea, il 100. Quindi vi fa capire veramente come si ci preoccupi sempre di più di proteggere la pelle. Quindi, allora, se andate a mare e mettete una protezione alta sul viso, voi ovviamente non volete essere bianchi in viso e avere una bella abbronzatura nel resto del corpo. Quindi, autoabbronzanti, no, non è una parolaccia autoabbronzante. Gli autoabbronzanti di ultima generazione non ti fanno arancione, non hanno il cattivo odore. Certo, devi riapplicarli dopo diversi giorni e devi esfoliare il viso, però credo che ne valga assolutamente la pena. Ci sono due autoabbronzanti che a me piacciono molto. Uno è della Clinique, che è un autoabbronzante sia per il corpo che per il viso. Generalmente li trovi separati. Questo è sia per il corpo che per il viso. Ha la protezione 15, non ha un cattivo odore assolutamente, non fa arancione. E dà subito un colorito, è leggermente colorato. Così, mentre lo applicate, vedete bene dove lo scendete e non fate errori. Per i bimbi, siccome appunto io ho un bimbo, alcuni dottori in passato dicevano non mettete la protezione bambina al di sotto i sei mesi. Oggi è un po' diverso, soprattutto con questi prodotti assolutamente naturali, senza ingredienti aggressivi. Questo è della linea California Baby, ha la protezione 30. È molto resistente all'acqua ed è questo il prodotto che io uso per mio figlio, quindi ve lo consiglio. Avete sentito? Gli piace tantissimo, quindi ve lo consiglio. Ah, zona occhi. Una cosa per me sorprendente è che non ci sono tantissime creme sul mercato, creme con la protezione. Una di queste è della Clinique, la conosco perché ci ho lavorato ovviamente, ed è una crema, scusatemi, che ha la protezione 15. Per il contorno degli occhi, mai usare una crema per il viso, per il contorno occhi. Quindi, allora, come sentite mio figlio si sta lamentando perché dobbiamo uscire. Quindi, volevo dirvi un'ultima cosa, io, io lo dico, sono un caso patologico, perché non mi abbronzo da circa 13 anni, intorno da quando avevo 19-20 anni. Guido con i guanti. Perché? Perché quando mettiamo le mani sul volante, questa zona è esposta ai raggi del sole. Quindi, non dico che dovete guidare con i guanti la gente pensare che siete pazzi, però, pazze, però se volete farlo, ehi, io lo faccio, io lo faccio assolutamente. Quindi, perché, lo dico sempre e lo ripeto, questa zona, il dorso delle mani e il viso sono così delicate. Per questa zona non c'è chirurgia estetica. E una donna, veramente si riconosce tantissimo dalle mani, soprattutto per ciò che riguarda l'età. Può essere tirata al massimo, ma il palmo delle mani, veramente, non mente. Quindi, credo che sia, veramente, per noi, ora di uscire. Mio figlio, assolutamente, ha messo la protezione, perché mio figlio non esce senza protezione. E, niente, credo che sia ora di salutarvi tutti. Vi ringrazio, scusate, mi torno subito, vi ringrazio per l'attenzione, poi capirà perché. Vi ringrazio per l'attenzione. E ci vediamo prestissimo. E tanti saluti a tutte e due. Ciao, mi raccomando, proteggetevi. Ciao.